Siamo allo sport, palla a volo, mentre la Sir Perugia è già al lavoro in vista dell'impegno infrasettimanale contro Modena. In casa Bartoccini si riflette sul K.O. contro Scandicci. Ce ne parla Luca Pisinicca. Cocce, la prestazione non si può dire che non c'è stata, però si fatica a dare continuità ai risultati. Sì, oggi i valori in campo erano diversi. Sinceramente per come abbiamo giocato, nonostante la qualità che nessuno nega dell'avversario, magari un set o qualcosina in più ce lo meritavamo perché eravamo sempre lì. Abbiamo fatto esordire un'altra 2002 che è anche un po' il progetto societario, cercare di vedere nel futuro quello che possiamo avere e Siano Agalor l'altra volta ed oggi, che di Hoppe stanno facendo molto bene. In certi casi, e la sconfitta casalinga contro la terza forza del campionato, Scandicci è uno di questi, bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno. Le giovani su cui Perugia ha deciso di puntare anche in prospettiva futura stanno crescendo bene, anche se questo aspetto non è bastato a scalfire la superiorità avversaria. Di sicuro nella prestazione della Bartoccini, forti infissi, ha pesato l'assenza per infortunio di Valentina Diuff, che ha però buone notizie in vista del prossimo impegno. Seguire da fuori è stata dura e sto abbastanza bene. Dovrei rientrare tranquillamente per la prossima gara e voglio rientrare perché non mi piace guardare. Non è arrivato il risultato, però una soddisfazione c'è stata comunque, il fansclap presente che ti ha sostenuto dal primo all'ultimo minuto. Sì, veramente, c'è mio padre, mia zia, poi sì, sono i miei parenti che sono venuti a trovarmi due giorni. Mi dispiace, avrei voluto festeggiare con una bella vittoria, però non era facile. Poi mi dispiace ancora di più perché secondo me abbiamo giocato una buona pallavolo fino a un certo punto, però poi ci perdiamo in alcuni momenti. Grazie. Grazie.